L'insegnante Luigi Izzo per l'Università Telematica Pegaso, salve professor Izzo, siamo qui in clima natalizio e ciò può sembrare strano in quanto le iscrizioni in genere si fanno a settembre, invece qui no, non è così? No, noi siamo aperti tutto l'anno scolastico, le iscrizioni sono aperte tutto l'anno scolastico e il settore della formazione è un settore aperto, non è che a termini di scatenza o di inizio chi si deve formare deve avere questa possibilità durante un percorso proprio di potersi iscriviti in qualsiasi momento che decide di iscriversi ai vari indirizzi che la Pegaso mette a disposizione. Siamo qui a parlare con lei perché personalmente lei crede molto nell'istruzione, in questo periodo fortemente di crisi lei continua a dire e a insistere che la formazione è la nostra unica salvezza? Sì, perché il mondo va così, soprattutto se guardiamo praticamente, ma questo già in Italia da molto tempo oggi, diciamo così, forse la Pegaso rispetto ad altre università è un po' più avvantaggiata perché ha messo su una piattaforma che dà la possibilità a chi lavora, a chi magari per varie proprie esigenze non può frequentare di persona i corsi universitari, ha la possibilità, diciamo così, attraverso la telematica quindi di studiare, diciamo, nelle ore più comode e di avere a disposizione tutto quello praticamente che ha necessità uno studente per poter approfondire le proprie conoscenze. La Pegaso è molto attenta al futuro dei propri giovani, non a caso dati dimostrano che l'80% degli iscritti alla vostra università poi lavorano. No, addirittura noi abbiamo un'assicurazione, il presidente Iervolina ha voluto portare avanti proprio per dimostrare che attraverso uno studio fatto in modo serio, attraverso una compartecipazione perché un ragazzo che si mette vicino al computer, non tanto per giocare su Facebook o altre cose ma per poter studiare, significa praticamente che ha già una sua, diciamo sì, inclinazione allo studio e quindi praticamente attraverso le competenze che forniamo, le conoscenze che forniamo quindi possono praticamente poi inserirsi nel mondo del lavoro e tanto più che ha fatto, diciamo, io la ritengo quasi una sorta di scommessa cioè che lui rimborsa eventualmente le persone che dopo due anni dalla laurea non lavorano lui rimborsi tutti quei soldi che hanno speso con la Pegaso, questo è tanto per dire. Questo perché la Pegaso crede molto in ciò che fa? Quella che fa, diciamo sì, perché la Pegaso guarda soprattutto l'Italia ma guarda soprattutto il mondo che lo circonda, l'Europa in modo particolare e anche, diciamo, oltre l'Europa perché oggi non si può fare una formazione senza guardare quello che avviene negli altri paesi e diciamo sì, questo è un indirizzo che il Presidente con tutto il suo staff che devo dire di primo ordine, porta avanti con decisione e quindi offre una piattaforma diciamo sia all'utenza di un certo livello che io auguro che ciascuna famiglia, diciamo, si possa proprio in questi giorni di festività dedicarsi un po' alla lettura, diciamo sì, della piattaforma tutte le possibilità che vada al corso che può fare chi ha un semplice diploma a quelli che si è lavorato e anche i presidenti avvocati o altre professioni che possono interessarsi a delle specializzazioni specifiche per le proprie attività e le proprie professioni. Non a caso abbiamo percorsi formativi e di eccellenza tenuti da avere proprie eccellenze? Eccellenze tenute da persone praticamente che hanno dimostrato da lungo tempo di avere delle grosse specificità, diciamo sì, nei propri settori da Iaccarino nel settore, diciamo sì, della ristorazione a Sgarbi nel settore dell'arte da Cecchi e Pavono nel settore della comunicazione, del turismo ad Lupi nel settore della comunicazione e via dicendo.